Abbiamo notato che c'è una diminuzione delle imprese artigiane, ma nello stesso tempo abbiamo una crescita dell'occupazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le imprese si stanno strutturando per affrontare al meglio i mercati del lavoro. E' la tendenza fotografata dall'osservatorio dell'Inps, che ha preso in esame il periodo 2014-2019. Nel Vicentino i lavoratori autonomi artigiani calano del 13%, anche le imprese artigiane registrano un calo del 4,9%. Il quadro va però completato con l'aumento del numero degli occupati complessivo. Le società di capitali inoltre sono aumentate del 20,6%. La tendenza quindi è quella di preferire il posto fisto al rischio di imprese individuali, mentre le aziende si irrobustiscono per affrontare la globalizzazione. Bisogna dare degli incentivi, cioè abbassare quelle che sono le tasse, ma soprattutto la burocrazia. Tante persone non accettano la sfida di aprire un'azienda perché ci sono troppi aspetti burocratici che occupano troppo tempo e troppi mesi per seguire la parte amministrativa e non la parte produttiva. Dobbiamo chiedere al governo di semplificare quelle che sono tutte le cose che non funzionano per semplificare le normative e per dare incentivi alle persone perché possono aprire nuove attività.